Sul Bando Nazionale della Protezione Civile cerca l'accoglienza dei profughi ucraini, il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato, Casto di Bonaventura, fa un po' di chiarezza per l'Abruzzo. Se c'è infatti chi sottolinea come le associazioni non abbiano risposto in massa e non si è raggiunto il numero minimo di 300, di Bonaventura dà una spiegazione chiara. Non c'è stata mancanza di sensibilità, anzi. Beh, direi che non è andata male, nel senso che comunque ci sono 192 posti che sono stati messi a disposizione grazie alle reti nazionali che hanno concorso con questi posti ad un progetto di livello nazionale. Quindi è chiaro che la risposta c'è stata. Ma tengo a sottolineare un fatto, che le associazioni più piccole, quelle che abbiamo tentato di aggregare per vedere di raggiungere il numero minimo di 300, un numero che è abbastanza alto, tenendo conto del fatto che già in precedenza vi erano state date delle disponibilità, erano state date delle disponibilità ai prefetti, ai comuni. E il bando prevedeva esplicitamente che dovesse mettere a bando nuovi posti, quindi posti non già dichiarati. Quindi il mondo del terzo settore in Abruzzo si è mosso, e si è mosso anche tanto. Naturalmente vedendo questo numero potrebbe sembrare che noi siamo tra le retrovie delle regioni italiane, ma non è così, perché c'è stata una offerta di accoglienza e di alloggi, di disponibilità di alloggi, già messa in campo prima da tantissime associazioni che fanno questo da tempo. Quindi noi abbiamo provato a creare ulteriore spazio e ci sono venute fuori altre 192 disponibilità. Mi sembra che sia un buon risultato da questo punto di vista. È chiaro che si può migliorare sempre, questo me lo insegnano tutti, e in particolare questa esperienza che stiamo facendo. Ma mi sembra che possiamo essere abbastanza soddisfatti di questo, anche perché questo ha permesso di mettere assieme tutta una serie di associazioni. Noi abbiamo circa 72 associazioni che hanno dichiarato al CSV, perché poi ce ne sono altre che magari non hanno segnalato nulla, di fare attività a favore degli ucraini che sono di stanza in Abruzzo, tra mediatori linguistici, raccolta farmaci, anche, magari ancora utile e necessaria, attività di dopo scuola, a supporto psicologico. Quindi ci sono tante iniziative che le associazioni e il mondo del volontariato e del terzo settore stanno mettendo in piedi.